Il gonfalone del comune listato a lutto, le bandiere a mezzasta così come le serrande dei negozi, le lezioni a scuola interrotte alle 10.30 e poi i tre nomi Savino, Teresa e Giulia sul cero pasquale al centro dell'altare nella chiesa della Dolorata. Immagini che raccontano dell'ultimo saluto di Margherita di Savoia che per l'occasione ha proclamato il lutto cittadino alle tre vittime della tragedia avvenuta nella giornata di sabato in questa abitazione di via Purgatorio. Sabino Giannino, sua figlia Giulia e la sorella dell'uomo, Teresa, sono stati trovati morti a causa delle esalazioni di monossido di carbonio emesse da una caldaia difettosa. Uccisi nel sonno nella cittadina d'origine, i tre vivevano da tempo a Milano, dove erano tornati per mettere a punto le pratiche di compravendita proprio della casa dove hanno trovato la morte. L'ultimo viaggio verso Milano è cominciato dopo che nell'ospedale di Foggia, dove erano state trasferite le tre salme, sono stati compiuti gli esami autoptici come previsto dalle indagini avviate dal sostituto procuratore del Tribunale di Foggia Enrico Infante. L'ultimo saluto della città di Margherita di Savoia, rappresentata dal commissario prefettizio, dottoressa Marcella Nicoletti, e dei margheritani, è anche un gesto di solidarietà, come lo ha definito padre Gennaro Farano nel corso della celebrazione funebre nei confronti della famiglia Giannino. Nella cittadina termale ci sono parenti delle tre vittime, gli stessi con i quali Sabino, Teresa e Giulia avevano cenato nella serata di venerdì prima di rientrare nell'abitazione di Via Purgatorio, lì dove non immaginavano di trovare la morte per una caldaia malfunzionante.